Nel suo rapporto dell'anno 2000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità cercò di elaborare criteri di valutazione dei sistemi di salute di tutti i paesi, arrivando a stilare una criticatissima graduatoria attraverso la misurazione di tre gruppi di indicatori. Il primo gruppo comprende i cosiddetti macroindicatori di salute, mortalità materna, mortalità infantile, tempo medio di vita eccetera, con un peso del 50%. Il secondo gruppo, con peso del 30%, è la cosiddetta salute percepita e rappresenta la soddisfazione del cittadino in risposta a giuste richieste. Un terzo ed ultimo gruppo, con peso del 20%, si riferisce alle percentuali di spesa per la salute del prodotto interno lordo, più percentuale, maggiore punteggio, e all'efficienza della spesa stessa. L'Italia risultò avere un punteggio che la collocò al secondo posto della graduatoria mondiale, dopo la Francia. Poco dietro seguivano Spagna, Portogallo e altri paesi dell'Europa occidentale, tutti con sistemi di salute unici e universali. Quindi, complessivamente, la più qualificata organizzazione del mondo su temi di salute mostrava un grande rispetto per la qualità del sistema sanitario italiano, anche se i segnali di scarsa sostenibilità erano già evidenti e, ancora più note, fossero le sperequazioni tra nord, centro e sud del paese. Un altro elemento maturato nel raffronto dei vari sistemi di salute è che non ha senso la pregiudiziale ideologica tra pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso il bilancio dello Stato e sistema assicurativo, e tra erogazione delle prestazioni sanitarie da strutture pubbliche o private, sebbene amministrati pubblico e privato, possono coesistere salvaguardando equità, qualità e addirittura potenziandosi. Dal 1990 al 2014, gli stati membri dell'Unione Europea hanno registrato un aumento del tempo medio di vita della popolazione di oltre sei anni, da 74 a quasi 81 anni. L'Italia si trova al secondo posto con 83,2 anni. Analizzando l'Italia per regione, le marche si trovano seconde dopo il Trentino Alto Adige, con 85,3 per le donne e 80,6 anni per gli uomini. La distribuzione per fasce di età dimostra che ben il 23% della popolazione ha più di 65 anni. In questa fascia 30% delle persone vivono sole e, per ovvia inversione del rapporto tra popolazione attiva e non attiva, ha un reddito inferiore ai 1000 euro nel 55% dei casi. Quindi più vecchi, più soli, più fragili. La transizione demografica accompagnata da una transizione epidemiologica verso le malattie cronico-degenerative e verso le riacutizzazioni di affezioni croniche. Almeno un'affezione cronica interessa il 74,6% della popolazione oltre 65 anni che, dieci anni dopo, arriva all'86,2%. Milioni di italiani sono affetti da malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e da tumori. Con l'aumentare dell'età anche il cumulo delle patologie croniche aumenta. Le patologie croniche, accumulandosi, portano spese che i paesi dell'Unione Europea hanno elevate. L'Italia, con i suoi 2.227 euro pro capite annui, registrati nel 2015, è inferiore alla media europea, che è di 2.975 euro. Questo valore è circa la metà della spesa della Germania. I 256 miliardi di euro spesi nel 2015 e pari al 9,2% del prodotto interno lordo, nel 2016 dovrebbero aver toccato i 267 miliardi, con un ulteriore incremento a 9,6% del prodotto interno lordo. L'accesso a tecnologie di informazione e comunicazione ha portato modificazioni della domanda di salute. E cioè A. La conoscenza ampia del diritto sulla salute e la richiesta a dismisura di interventi della magistratura per compensazioni di presunti danni subiti dal paziente. B. La conoscenza, spesso di bassa qualità, delle fonti di informazione di internet, o forse solo male interpretate, che si porta dietro il concetto di consumerismo della salute. C. La pericolosa diffusione delle applicazioni orientate al paziente, con spinte all'autocura e conseguenti patologie iatrogene. Si sono verificate dinamiche sui professionisti della salute con riduzione del ricambio generazionale, precariato, formulazione di nuove figure professionali poco flessibili nelle loro funzioni, creazione di gruppi terapeutici e multidisciplinari, con potenziale aumento del conflitto e quindi mutati assetti di governo del sistema. L'invasione della tecnologia di informazione e comunicazione nella salute sta imponendo nuove tecniche, cui il curriculum formativo universitario dei professionisti della salute non è stato ancora adattato. Esistono forse corsi obbligatori di salute elettronica, cioè e-health. Già a livello dell'ultimo anno di laurea delle facoltà di scienze della salute? Assolutamente no. Tutto è rimandato per di più in forma facoltativa nei corsi master post laurea. Troppo poco per la rapidità delle trasformazioni in corso. Egualmente la tecnologia genomica sta portando gli assetti dalla diagnosi e cura alla lettura del genoma e quindi ha nuove potenzialità predittive e preventive. L'abbassamento delle colonne verdi, che rappresentano la spesa ospedaliera, e l'aumento delle colonne arancioni, che rappresentano la spesa del distretto sanitario, testimoniano lo spostamento in corso delle risorse. Vari provvedimenti legislativi nazionali e regionali hanno portato alla riduzione dei posti letto ospedalieri, non solo in Italia ma in tutti i paesi europei. Nel 2014 la media dei paesi dell'Unione Europea si è attestata su 5,2 posti letto per mille abitanti. L'Italia, che era già al di sotto della media, ha abbassato ulteriormente a 3,3 posti letto per mille abitanti. Nella tipologia del posto letto ospedaliero l'Italia è anche in deficit sulla percentuale dei posti letto di riabilitazione e lunga degenza. La Regione Marche ha ridotto i posti letto per acuti di 790 unità, aumentando i posti letto per riabilitazione di 240, con un saldo in negativo di 550, secondo la tendenza prevista e richiesta. Le funzioni dell'ospedale tendono a differenziarsi, ampliandosi e specializzandosi, sia nell'ambito dell'adegenza che dei servizi, fino alla teorizzazione dell'ospedale modello concepito dall'architetto Renzo Piano, 18 anni or sono. L'ospedale 4.0 sarebbe un ulteriore livello di avanzamento che prevede l'alta intensità di cura tecnologica, lo sviluppo delle reti locali, intranet, e la meccanizzazione spinta attraverso la robotica. Se le regioni dovessero continuare ad essere il centro di gestione di spesa del sistema sanitario, ha senso concepire un modello di ospedale unico di area vasta regionale, dove le singole unità siano collegate in rete e i servizi si compensino l'un l'altro con l'obiettivo di riequilibrare la domanda e ridurre le liste di attesa. Nel divenire del modello è importante prevedere indicatori di qualità allo scopo di togliere margini all'autoreferenzialità. Il Piano Nazionale delle Cronicità e il Decreto Ministeriale 70 del 2015, articolato su dieci temi, sono i due punti di riferimento che mettono chiarezza nelle linee guida delle trasformazioni dell'assistenza sanitaria. Nei sistemi di salute unici ed universali, come quelli della maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale e del Brasile. Secondo un modello costituzionale che impone allo Stato la responsabilità sulla salute dei suoi cittadini, l'efficienza si gioca sulla coordinazione tra il cosiddetto territorio dove albergano le cure primarie e un ospedale di nuova concezione che invia di definizione e realizzazione. Comunque, in accordo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'unica a conservare una visione planetaria dei sistemi di salute, le cure primarie sono sempre la base essenziale dell'intera galassia dei servizi di salute, sulle quali cure primarie debbono essere poste tutta l'attenzione possibile e le risorse necessarie perché funzionino al meglio.